Grazie Don Marco, grazie agli organizzatori. Ecco, ho titolato proprio in questo modo perché mi pare importante nell'attenzione al malato accompagnare la sua speranza, che attualmente sto approfondendo sia dal punto di vista psicologico, credo sia abbastanza una riscoperta, e dal punto di vista anche pastorale. Certamente la malattia e la sofferenza è un'esperienza critica della persona e della sua famiglia. È importante quindi sapere entrare in relazione sia con la persona malata che con la famiglia e per questo ci vuole una formazione anche psicologica adeguata. Non basta la buona volontà. La psicologia della salute oggi si interessa della persona, nella sua interezza, e quindi del corpo, della mente, delle relazioni e anche dello spirito. Quando una malattia tocca la persona, tocca tutta la persona. Si sta passando da un modello biomedico, centrato sul bio, a un modello bio-psico-sociale. La novità attuale, anche in ambito scientifico, è che si sta aggiungendo una parolina non da poco. Si parla di modello bio-psico-sociale-spirituale, in cui la spiritualità è ampia, la religiosità è qualcosa di focalizzato all'interno della spiritualità. E questo non solo, che è già importante per il rispetto del malato e quindi dell'umanità del malato, ma anche come elemento fattore che può entrare dentro alla cura. È importante quindi, se è vero questo modello bio-psico-sociale-spirituale, è importante una visione da varie parti sul malato. E quindi l'interdisciplinarietà dello sguardo, ma anche la collaborazione tra i vari operatori. La mia relazione è in tre momenti, focalizzo sull'esperienza della malattia, secondo momento so stare nella relazione accanto a chi soffre, terzo momento focalizzerò un po' di più sulla speranza. L'esperienza della malattia, certamente, è qualcosa che tocca il malato nella sua interezza. In psicologia, a volte, più che esperienza, si usa la parola vissuto psicologico del malato, ma per dire tutto quello che il malato sente, percepisce, pensa, eccetera. Tutto questo vissuto interno si esprime nei comportamenti. Ciò che oggi la psicologia approfondisce, sottolinea, è che la risposta del malato alla malattia non è una reazione meccanica, ma è una risposta elaborata. C'è sempre un'elaborazione mentale da quello che è lo stimolo malattia al comportamento che la persona esprime. Vogliamo capire il comportamento del malato? Dobbiamo cercare di capire chi è questa persona, quale evento di vita, in questo caso la malattia e la disabilità, sta vivendo, l'ambiente in cui vive, ambiente sociale, ambiente sanitario, ma specialmente focalizzare il discorso sul significato che la persona, a livello inconscio o cosciente, dà a tutto ciò che sta vivendo. Un significato che è influenzato non solo da ciò che la persona sta vivendo, cioè i suoi significati, ma significati anche familiari, culturali, sociali e anche religiosi. Qualsiasi tipo di malattia, quindi, non provoca solo una reazione biologica, ma una risposta di tutta la persona. Meglio ancora, se la malattia è una malattia cronica, invalidante, grave, interessa tutta la famiglia. Quindi la malattia non diventa solo una storia della persona, ma una storia della famiglia. C'è un passaggio molto spesso nel malato da avere una malattia, un qualcosa che ho e di cui mi libero, a essere malato con qualcosa col quale io mi identifico. Chiaramente la malattia interrompe la propria vita, mette in crisi, e con la parola crisi, è una rottura di un equilibrio, è una crisi personale, abbiamo visto, anche familiare, e disorienta molto spesso la propria identità. Ciò che mette in crisi, in modo particolare, è l'attesa, la speranza, i progetti, gli obiettivi. E' ciò che fa particolarmente soffrire. Chiaramente la risposta psicologica del malato non dipende semplicemente dalla gravità della malattia, ma dal come il malato vive la malattia. Quindi potremmo avere risposte importanti di fronte a malattie semplici, e risposte invece semplici, a volte non risposte quasi, di fronte a malattie importanti. Quindi è importante, appunto, guardare il malato nella sua interezza. Credo che questo sia già umanizzazione. Quando noi guardiamo ai significati che la persona dà, i significati possono essere tanti, molto personali, culturali, sociali, religiosi, eccetera, certamente alcuni significati li troviamo spesso, e del significato di malattia come pericolo, significato di malattia come ostacolo, e significato di malattia come perdita. Quando c'è un significato, c'è un'elaborazione mentale che porta a una certa emozione. Una volta si pensava alle emozioni come qualcosa di scatenato direttamente da ciò che viviamo, l'emozione invece è filtrato da qualcosa che passa dentro alla mente. E quindi possiamo avere a che fare con l'ansia, l'angoscia, la rabbia, la tristezza e molti altri. Ciò che è importante sottolineare è che in realtà per capire la psicologia del malato dobbiamo inserirlo dentro un contesto relazionale. Cioè in fondo in fondo non c'è una psicologia individuale, c'è sempre una psicologia sociale e relazionale. Cioè i significati e le emozioni che troviamo nel malato li troviamo nella famiglia, negli operatori sanitari e come dirò poi c'è un contagio molto spesso tra questi significati e queste emozioni proprio attraverso le relazioni. Spesso il malato si difende da emozioni troppo forti che non riesce a gestire inconsciamente, cioè nemmeno lui lo sa, attraverso dei meccanismi di difesa. I famosi meccanismi di difesa freudiani, elaborati da Freud e poi dalla figlia Anna. Sono tentativi inconsci proprio di tamponare l'aggressione della malattia in questo caso e dell'angoscia che comporta ad esempio negando ecco no, non è vero, non è vero tutto quello che mi succede, non può essere vero. Oppure cercando così di difendersi attraverso dei comportamenti un po' tra virgolette infantili, la regressione. Cioè io non ce la faccio, mi affido a voi, medico e infermiere, siete mio padre e mia madre, siete voi che dovete gestire tutto per me. Oppure, ecco il malato che diventa aggressivo, arrabbiato, dovrebbe essere arrabbiato con la malattia e si arrabbia col medico, l'infermiere, la moglie e anche con Dio. Ciò che è importante sottolineare è che sono meccanismi di difesa. Quindi in realtà sono protettivi per un certo verso del malato ma chiaramente non sono più protettivi quando vengono mantenuti oltre il dovuto e impediscono al malato di collaborare alla terapia e di darsi da fare. Oggi però di fronte a una psicologia di questo tipo che sottolineava un po' il lavoro inconscio della mente, c'è tutta una psicologia cognitivista che dice no, guarda che il malato, una persona, è un elaboratore di informazioni ed è un elaboratore che lo fa consciente. Ecco allora si parla di meccanismi o strategie stili di coping. La parola coping vuol dire affrontare. Il malato affronta la malattia dando suoi significati, significati che può anche scegliere volutamente e liberamente. È interessante notare che dentro a questa prospettiva si dice che in fondo il malato quando riceve anche una diagnosi di malattia fa una prima valutazione cognitiva e dice ma in realtà che cosa significa questa malattia per me? Ecco un pericolo, una perdita, un ostacolo oppure può essere anche una sfida, un'opportunità o altro ma la seconda domanda è interessante di fronte a questa malattia su quali risorse personali e sociali posso contare ed è per questo che il malato anche di fronte a una malattia grave se sa di essere accolto e curato dentro una struttura adeguata può avere una reazione psicologica meno importante chiaro che qui potremmo anche introdurre tutto il discorso della logoterapia di Frankl che dice di fronte a situazioni che non posso cambiare posso sempre cambiare il mio atteggiamento di fronte alla situazione e cambiando l'atteggiamento in realtà cambio il mio modo di vedere e cambio in realtà la mia risposta alla malattia dentro a questo discorso è collegato c'è tutto il discorso sull'importanza dei significati religiosi e sull'immagine di Dio che noi accanto al malato volutamente o non volutamente veicoliamo cioè ogni malato ha una sua immagine di Dio e questo lo aiuta o non lo aiuta ad affrontare la malattia ma ci sono significati anche religiosi che coloro che hanno che sono accanto e che lo curano hanno e che in qualche modo ecco attraverso cioè con questi significati contagiano quelle che sono le reazioni del malato vado un po' di sfuggita ma per far capire ciò che va sottolineato è questo si sottolinea oggi molto l'importanza e la terapeuticità della religione è vero una buona religione è terapeutica una cattiva religione è tossica io tratto dal punto di vista psicologico non voglio entrare in merito adesso su altri punti di vista secondo punto la cifra potremmo dire usare questa parola per capire il tipo di esperienza che il malato fa della sua malattia è certamente la sofferenza il dolore e la sofferenza sia dolore che sofferenza che sottolineano più l'aspetto fisico psicologico e spirituale però sono sempre esperienze che interessano la persona nella sua interessa ed è importante quindi ecco il titolino che ho messo questo secondo punto accanto a chi soffre so stare nella relazione cioè il verbo so stare l'ho spezzato e dico so stare nella relazione anche quando in realtà non ho niente da dire non posso guarire eccetera eccetera è vero che accanto a chi soffre molto spesso ci sono tante persone e diciamolo pure onestamente ci sono persone che aiutano la persona che soffre e ci sono persone che sarebbe meglio che non ci fossero perché non aiutano di fatti qualche psicologo titola un po' qualche suo lavoro se vuoi aiutarmi non aiutarmi ecco a qualcuno vorrebbe la pena dire se vuoi aiutarmi non aiutarmi sta pure dall'altra parte il dolore comunque è sempre un messaggio che viene dall'anima che viene dall'interno ed è un messaggio che parla appunto di paura di tradimento di angosce di rabbia eccetera e via dicendo che cosa noi facciamo noi molto spesso di fronte al dolore sia nostro che degli altri rischiamo di usare la strategia dell'addormentare il dolore un analgesico un farmaco una frase consolatoria e anche frasi religiosi che sono consolatorie addormentiamo il dolore invece che saper stare accanto a chi soffre lasciando che sia la persona a dare un nome alle sue emozioni e al suo dolore ecco allora che per aiutare chi soffre è importante l'abbiamo sentito varie volte oggi esserci stare ad assistere stare lì so stare nella relazione anche quando in realtà non ho niente da dire ma so che è importante stabat mater dolorosa impotente di fronte al dolore del figlio non ha risolto niente ma per il figlio era una presenza molto importante da tenere in considerazione che spesso il malato si difende da questa angoscia da queste difficoltà diventando un po' aggressivo e scaricando l'aggressività sul primo che capita se noi non comprendiamo che l'aggressività la rabbia per lui è questa espressione nell'aggressività lo aiuta a vivere in qualche modo la malattia rispondiamo aggressivamente al malato ed entriamo in un circolo vizioso dal quale non si esce più non è solo l'aggressività fisica è l'aggressività fatta di parole l'aggressività fatta di abbandono eccetera eccetera il dolore è un fenomeno molto complesso interessa sempre la persona ciò che sottolineo e poi per collegarmi al discorso sulla speranza è questo molto spesso noi pensiamo al dolore del momento cioè al dolore del presente magari ecco sottolineiamo anche il dolore del passato dimentichiamo che un grande dolore o grandi dolori una grande fonte di sofferenza è quando il futuro si chiude quando il futuro è problematico pensiamo in questi momenti in momenti di crisi la sofferenza di tante persone che può portare anche il suicidio è la chiusura di un futuro e quindi la chiusura della speranza è chiaro che per aiutare chi soffre è importante ecco imparare una relazione di aiuto una competenza relazionale e comunicativa e una psichiatra Borja parla che c'è bisogno nella relazione di un'attenzione umile umile per entrare dentro all'interiorità delle persone e in fondo in fondo senza spegnere la propria interiorità leggo perché questo passo di Borja che è molto molto importante no quindi ho perso la pagina la trovo subito ecco qui è molto importante lui lo riferisce alle psichiatri ma secondo me è molto bello per ognuno di noi ma di che cosa ci parlano i pazienti quando sentendosi male chiedono un aiuto e non dirado anche solo una parola un gesto di comprensione di solidarietà a un medico che se è psichiatra non può non essere capace di dialogo e di relazione secondo me è che il discorso è anche più ampio ci parlano delle loro ansie e delle loro tristezze nostalgie e preoccupazioni la loro solitudine e le loro speranze infrante le loro esperienze vissute e le loro storie interiori di vita e di questi modi di essere e di vivere che non sono sintomi di una malattia ma segni di una condizione umana ferita e dolente ogni psichiatra potremmo dire ogni curatore curante prende coscienza e conoscenza solo se in questo caso fra medico e paziente io direi allarghiamo il discorso nasce o rinasce una relazione una comunicazione che non si serve solo del resto delle parole ma anche degli sguardi e dei silenzio ecco quindi l'importanza di so stare nella relazione chiaramente abbiamo sentito oggi parole come empatia coinvolgimento eccetera eccetera però senza confusione perché la fusione poi impedisce di aiutare l'altra persona e può portare al burnout non mi fermo su questo perché altrimenti apriremo un grosso capitolo terzo momento che è quello che personalmente attualmente più mi interessa accompagnare la speranza non uso la parola dare speranza i psicologi suggeriscono di non usarla più in realtà non si dà speranza si accompagna la speranza si aiuta il malato a trovare la sua speranza e come riferimento teniamo l'icona dei discepoli di Emmaus Luca ci narra di due discepoli che lasciano Gerusalemme e vanno verso Emmaus delusi tristi disperati io direi bruciati in burnout bruciati perché ecco il loro motivetto noi speravamo noi speravamo eccetera ecco speranze deluse attese deluse eccetera un viandante si accosta a loro e in realtà li accompagna in questo cammino la loro tristezza fondamentalmente è la tristezza di chi si sente tradito tradito da un messia tradito da un sogno tradito da illusione questo misterioso viandante ecco si accosta a loro loro non lo riconoscono loro continuano a dire noi speravamo in questo noi speravamo c'è dolore rabbia delusione eccetera il misterioso viandante li rimprovera e dice ma forse dovete imparare a rileggere all'indietro tutta la storia ecco la Bibbia da quello che voi state vivendo e rileggendo questa storia fa ritrovare in loro una certa speranza non per niente quando questo viandante che era Gesù vuole andarsene dice no resta con noi perché si fa sera e nello spezzare il pane lo riconoscono interessante però notare io leggo dal punto di vista se volete molto umano molto psicologico questo viandante Gesù dice è come se dicesse io adesso ho fatto quello che dovevo fare adesso tocca a voi io me ne vado toccava a loro riprendere in mano la loro vita e rivedere le loro speranze ecco allora Emmaus non come punto d'arrivo di una disperazione ma appunto di ripartenza per ritornare a Gerusalemme ma erano cambiati il loro sguardo era diventato chiaramente diverso potremmo dire che questo racconto di Luca è una parabola della nostra vita e della morte dei nostri sogni ma è una parabola anche della risurrezione della nostra speranza ed è una parabola anche di come accompagnare e fare risorgere la speranza negli altri è chiaro che c'è una rottura del processo di speranza ogni volta che il futuro si chiude chiaramente in questo senso la speranza è forte e può essere veramente anche frantumata o tradita nel momento del dolore e nel momento della malattia ed è importante elemento ecco qui insisto è un importante fattore terapeutico oggi a livello di medicina e di nursing si insiste molto su questo fattore terapeutico della speranza la nostra relazione di cura con colui che soffre può veicolare aiuto o disagio sostegno o illusione disperazione o speranza esprime in vari modi ciò che siamo le nostre speranze ma anche le nostre delusioni quindi importante non solo la speranza nel malato ma la speranza nell'operatore che poi contagia la speranza del malato è chiaro che nell'esperienza appunto del dolore della malattia la speranza in modo particolare va in crisi e vanno in crisi anche le relazioni e la nostra fiducia anche in Dio ecco la speranza è una variabile importante nell'esperienza del malato e nella relazione di cura la diagnosi ad esempio di una malattia grave ha un impatto immediato e forte sul processo di speranza della persona di fatti il linguaggio che si usa c'è qualche speranza quanto tempo mi resta quale sarà il mio futuro eccetera sono domande continue che il malato fa interessante notare ed è questo che vorrei mandarvelo come messaggio che molto spesso nella relazione di cura bisogna negoziare ridefinire continuamente la speranza noi sappiamo che un malato entra in ospedale e si fa curare per essere guarito però poi è importante che anche il medico o l'infermiere sappia rideclinare tutto questo se non guarito curato se non curato nel senso di risolto il problema o quasi ritrovi una tua qualità di vita puoi tornare a casa eccetera eccetera ecco scrive un medico esperto in cure palliative la nuova speranza cioè la speranza che devi continuamente ricercare ritrovare potremmo dire far risorgere potrebbe essere la speranza di non morire soli la speranza di non soffrire dolori eccessivi la speranza di non essere peso agli altri e la speranza di lasciare un'eredità e di essere ricordato dagli amici e dei familiari quindi è importante questo rideclinare rinaguziare riformulare continuamente la speranza non solo per il malato ma anche l'operatore deve rideclinare la sua speranza perché anche lui all'inizio magari sperava di guarire e quando in realtà non riformula la sua speranza insiste per voler guarire ad esempio con l'accanimento terapeutico che è una forma per dire in realtà non rinuncio a questa mia speranza di un controllo della situazione molto spesso noi rischiamo come cristiani come cattolici come operatori pastorali di parlare subito della speranza ultima quasi a dire che la speranza cristiana sia la speranza nell'aldilà e allora hanno ragione quelli che dicono no in realtà la speranza è solo quella dell'aldiquà io credo che la speranza cristiana in realtà sia la speranza del già e non ancora è una speranza proiettata nella realizzazione dell'aldilà ma che deve trovare delle piccole ma importanti realizzazioni già nell'aldiquà finire dopo dopo diamo tempo si ti è tranquilla nel confronto con la diagnosi di una malattia grave e con l'avvicinarsi della morte la speranza del malato compie un viaggio ad esempio dentro a volte alla domanda di eutanasia c'è una speranza delusa una speranza di cura la speranza ha il volto della cura diceva Benedetto XVI in ospedale pediatrico vuol dire che la speranza ha il volto dei molti terapeuti accanto a chi soffre e accanto a chi muore finisco con un breve racconto tratto da un testo di teologia pastorale in un reparto pediatrico il sacerdote sta celebrando la messa e sta spiegando un brano del Vangelo guardate gli uccelli del cielo non seminano e non mietano neppure voi dovete preoccuparvi Boris un bambino si alza da alcune settimane non riesce a prendere alcun tipo di cibo solido la sua malattia non è ancora diagnosticata ha dovuto sottoporsi a una lunga serie di analisi e ogni volta che lo prelevano dal suo lettino si sente invaso da una profonda angoscia alle parole del sacerdote in quel gruppo di bambini dai due agli undici anni e l'improvvisamente esclama veramente non dovrei preoccuparmi ma un po' mi preoccupo che mia mamma venga tutti i giorni silenzio non una parola da parte degli altri bambini con voce squillante Boris dice di nuovo veramente non dovrei preoccuparmi ma un po' si chissà se oggi mia mamma verrà i bambini lo guardano tutti tesi nessuno parla tutti conoscono questa preoccupazione quindi Boris dice e se oggi mia mamma viene non devo preoccuparmi di mangiare perché mi porterà la pasta come a dire chiaro non mi preoccupo perché Dio guarda anche le uccelli del cielo ma a me per me in questo momento è importante che mia mamma sia la risposta alla mia alla mia speranza nei malati che incontriamo che assistiamo e che curiamo la grande speranza nel Dio che si preoccupa di loro come si preoccupa degli uccelli del cielo e dei giri del campo si incarna nella fiduciosa speranza e nella sicurezza che noi noi non le lasceremo mai soli mai senza un'amorevole relazione di cura moderna traduzione dell'invito di San Camillo ai suoi religiosi più cuori in quelle mani e finisco coliendo l'invito di Papa Francesco posso concludere non dobbiamo avere paura della bontà e della tenerezza ma questo credo non solo accanto al malato non aver paura della bontà e della tenerezza credo sia importante non aver paura della bontà e della tenerezza anche nei rapporti tra di noi che curiamo il malato grazie 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 a tutti